Buonasera, grazie per essere venuti anche per l'attesa, siete stati puntualissimi e questo ci fa molto piacere, stiamo per iniziare questa serata, spero sia piacevole per voi che siete stati così gentili da accogliere il nostro invito, Mirio Abate è qui, è arrivato nel primo pomeriggio, è preso un po' di sole dopo essere stato a Carpi a prendere un po' di primo al tempo, quindi torni alla tua Sicilia, non è per punizione, ma credo che sia un premio, la serata sta per iniziare, noi abbiamo deciso anche di dare spazio anche a qualche voce locale, quindi prima della serata ci sarà l'esibizione del maestro Emano con la giovanissima Sofia di Dio, poi nella serata avremo anche altre due piccole esibizioni, tanto per spezzare il ritmo, parliamo ovviamente con Lirio, non soltanto di questo libro, secondo me molto interessante che vi invito veramente a leggere la lista, ma parliamo con lui anche di altre cose perché ne approfitteremo, perché possiamo svariare su tanti argomenti che riguardano soltanto Roma ma anche la nostra Sicilia e la nostra terra, intanto direi di dare un benvenuto e facciamo anche un po' di singolaggiamento a Sofia che è giovanissima e a Ermano e poi noi cominciamo Grazie. 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 La mafia e Liparrini, la mafia e Liparrini, e si dettero la mano, e per questa denuncia, per la vita poi che ha fatto, perché era una che denunciava le cose, è dovuta scappare via dalla Sicilia, e si è rifugiata e poi è stata in Toscana, eccetera, ma è dovuta andare via da questa terra, proprio per quelle cose che raccontava, per le cose che diceva. Per cui, questa che è una delle canzoni più belle di Rosa Barisari, mi piace tanto per aprire una cosa del genere, e penso che anche a cantarla si dà tanta emozione, per cui complimenti. Ci hai fatto indiettamente un commento a Luca Maganugo, che io non avrei mai immaginato, purtroppo è così, la scelta lui, devo dire una sua idea insieme a Ermano, quindi ci ha azzeccato, insomma, il tema ci ha azzeccato. Allora, anche se tutti lo conoscete, io vorrei farvi una brevissima presentazione di chi è Lirio Abbate, è un giornalista che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna già di conoscere quando collaboravo con il giornale di Sicilia, però come tanti colleghi, poi ho lasciato la redazione di Via Lincoln per approdare ad altri lidi, l'ANSA e l'Espresso. Leggo nella tua bellissima scheda che nel 2014 il reporter senza frontiere ti ha inserito tra i cento eroi dell'informazione, hanno sbagliato, lo so, hanno confuso sicuramente, e nel 2015 a Londra ti hanno annoverato tra le 17 personalità che nel mondo lottano per libertà di espressione. Lì hanno sbagliato perché hanno copiato... Con il microfono. Hanno sbagliato pure lì? No, lì hanno sbagliato la seconda volta perché hanno copiato il reporter senza frontiere, allora... Ah, senza frontiere. Eh sì, sarà una casualità anche quella. Con Peter Gomez hai scritto i complici, tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone al Parlamento, con Marco Lillo il libro inchiesto su Mafia Capitale, di cui parliamo anche questa sera, il re di Roma, e poi hai pubblicato con il sole anche i filmini e i ribelli e le donne salveranno il paese dalla drangheta. Quindi tutti argomenti sempre molto leggeri, molto soft, potremmo dire in questo caso. Stasera presentiamo un libro che è uscito in primavera, ad aprile, 30 marzo insomma, è uscito pochissimi mesi fa, sta girando l'Italia ed è un libro super attuale perché manco a farlo apposta, il 20 luglio è uscita anche la sentenza di primo grado che riguarda in parte anche questa inchiesta su Mafia Capitale. Intanto dovremmo spiegare magari chi non ha seguito magari questa vicenda giudiziaria, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Massimo Carminati, tra l'altro la vostra copertina dell'Espresso mi pare la penultima, l'ultima, stato cecato, dice tanto, dice quasi tutto, no? Perché il soprannome di Massimo Carminati a Roma è arcecato perché ha un occhio solo, ha un occhio solo, è stato cecato e pesante diciamo come titolo. Perché? Chi l'ha scelto? Intanto Lirio. Beh, allora, intanto grazie, grazie dell'invito, grazie di essere venuti. Quando Fabrizio mi ha contattato e sono stato contento di venire, anche se era fuori dai circuiti, diciamo che c'eravamo fissati con Rizzoli, perché comunque è una realtà la vostra che è sintomatica, è particolare, da tanti punti di vista. Lasciamo perdere la mafia, le situazioni che conoscete bene, che avete vissuto sulla vostra pelle, ma il problema è che, lo dicevo prima una collega, è la vostra, una cittadina dove però l'informazione che fate, se ne fa tanta, è riuscita a illuminare, diciamo, questa criminalità organizzata. Nel senso che i giornalisti di Gela e gli operatori dell'informazione, chiamiamoli come vogliamo, ma che comunque hanno raccontato, illuminato nel passato queste storie, non sono storie che erano qui isolate e la mafia ha continuato a fare quello che voleva, ma erano illuminate perché c'era un'attenzione mediatica, anche nazionale, che in qualche modo li ha tenuti così, nel senso che sapevano che se facevano un passo venivano subito illuminate. E quando vengono illuminate le organizzazioni criminali, i banditi, i mafiosi, eccetera, hanno un po' timore. Non sono proprio così spavaldi da sfidare l'opinione pubblica, perché loro con l'opinione pubblica ci vogliono andare a braccetto. Per cui una delle armi che Gela ha tirato fuori è stata il coraggio dell'operatore dell'informazione, ma poi anche il coraggio di operatori economici, imprenditoriali che hanno denunciato, che hanno avuto questa forza di raccontare, perché non erano da soli. Questo fatto e questa informazione, questo modo di operare, invece non c'è a Roma, come non c'è ad esempio a Foggia. A Foggia dovete sapere che c'è la mafia del Gargano, a Foggia è un far west, si ammazza almeno due persone al mese, ma non perché si scontrano da sole con dei proiettili, ma perché c'è una faida, perché c'è una grossa faida di mafie, una mafia che si scontra, erano come i corleonesi a Corleone, nel Foggiano e lì nel Gargano è così. E quando non ammazzano ci sono gli attentati ai ristoranti, ai locali, ai cantieri, è proprio la mafia che conosciamo. Eppure, nonostante le intimidazioni, nonostante gli omicidi, nonostante tutte queste cose di violenza e nonostante il fatto che sono state fatte inchieste che hanno individuato i clan che sono dentro questa faida, ancora oggi, nel 2017, queste inchieste portate davanti ai giudici, i giudici non ne hanno riconosciuto l'associazione mafiosa, ma nemmeno l'aggravante mafiosa. Per loro sono semplici scontri criminali, riconducibili a faide semplici fra di loro, scherzi, come se ci fossero dei condomini e che si fanno la guerra fra di loro e non è... Ecco, se quella lì non è mafia, allora uno dice che... Ma il problema di Foggia qual è stato rispetto a Gela, per dirvi? E che affoggia purtroppo l'informazione del posto, non è riuscita a illuminare anche oggi bene quei fatti, tanto da attirare l'attenzione mediatica e l'opinione pubblica su quelle vittime, su quei territori. Per cui Gela ha anche questo grande riconoscimento. Roma. A Roma adesso si è parlata di mafia capitale, un po' la riesco a continuare a chiamare così mafia capitale perché per me è un metodo mafioso che ad ogni modo, anche se c'è una sentenza che l'ha esclusa, magari ce ne sarà un'altra, vedremo come andrà a finire. Però è mafia capitale perché tutto quello che è stato documentato nel corso delle indagini è come se rivedessi delle storie siciliano-calabresi. Che cosa è accaduto? È accaduto che Roma nel passato è stata, sapete, al centro di conflitti c'era la banda della Maiana che era vicino ad estremisti di destra, poi c'è il terrorismo, i brigatisti, i rapimenti, storie appunto di terrorismo, quello che ha fatto più impaurire Roma. E beh, ce ne sono stati, ci sono stati delitti, ci sono stati sequestri di persone che hanno cambiato anche la storia del nostro paese. Però accanto ad ogni storia del genere c'era un uomo, c'è stato un uomo, un uomo nero, un uomo che si chiamava e si chiama Massimo Carminati, che è sempre rimasto nell'ombra. Questo ragazzo che nasce a Milano e si trasferisce a Roma, nell'81 viene colpito mentre tenta di scappare perché è ricercato per banda armata, per rapine e altre cose violente, cerca di scappare al confine con la Svizzera, la polizia è lì e spara addosso e lui poi perde un occhio e da lì sarà chiamato e cercato. Però da quel momento la vita di Carminati cambia perché Massimo Carminati a Roma diventa un mito, proprio perché ferito all'occhio e ne perde uno, diventa già uno che ha visto la morte negli occhi ed è per i criminali romani, diventa un personaggio da imitare, diventa uno così, ma lui diventa ancora più cattivo. E lui diventa ancora più cattivo perché è un personaggio che ha molta dimestichezza con le armi, con gli esplosivi ed è uno che si mette al servizio delle cose più oscure, si mette al servizio della banda della Magliana, non facendone parte, si mette al servizio di boss della banda della Magliana che dovevano colpire, dovevano sparare, dovevano sequestrare, dovevano intimidire le persone e lui è lì, si mette al servizio di apparati strani, un po' grigi, deviati di questo nostro paese. E proprio per questo motivo lui finisce dentro alle storie più complicate, ma anche più misteriose della storia dell'Italia, ancora oggi che non hanno avuto un risvolto giudiziario, uno per tutti, Massimo Carminati viene accusato dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli e finisce sotto processo insieme ai boss di Cosa Nostra e soprattutto finisce sotto processo insieme al senatore Giulio Andreotti. Massimo Carminati finisce sotto processo per l'inchiesta sulla strage della stazione di Bologna, del 2 agosto, fra pochi giorni ne ricorre l'anniversario, 90 vittime, centinaia di feriti e lui entra in quella storia perché è accusato di aver depistato le indagini su quella vicenda e ne uscirà. Massimo Carminati così facendo, dal suo aspetto, viene accusato dell'omicidio di due ragazzi, di due diciottenni, uccisi a Milano subito dopo il sequestro di Aldo Moro perché erano due ragazzi appartenenti alla sinistra, in quel momento c'era bisogno, secondo la ricostruzione dei magistrati, di destabilizzare un attimo il paese e anche su questa vicenda viene accusato Massimo Carminati, ne uscirà assolto e poi viene accusato di banda armata, viene accusato di atti di terrorismo, viene accusato di un altro omicidio, dell'omicidio di un tabaccaio a Roma perché dava fastidio a uno dei boss della Magliana perché spacciava della droga e il boss della Magliana non voleva che lo facesse e viene accusato di questo omicidio. C'è un pedito della Magliana che lo indica e poi soprattutto c'è un fatto materiale che il killer, i testimoni, lo vedono scappare da questa tabaccheria e mentre scappa si appoggia la mano sul vetro di un'automobile e poi va via, fugge, perdono le tracce. La polizia scientifica arriva, prende le impronte su questo vetro e le impronte sono, in quel momento, quando le prendono, sono di Massimo Carminati. Bene, il pentito ne parla, dice Massimo Carminati aver ucciso, ci sono le impronte sul vetro in cui i testimoni raccontano, che vedono il killer che si appoggia lì a quell'auto. Quando si va a processo, il difensore di Massimo Carminati chiede dimostrare, sì, va bene, il pentito dice quelle cose, il difensore, che è sempre lo stesso. Lo stesso della settimana scorsa? No, no, il papà. Chiede dimostrare, va bene, il pentito dice queste cose, ma il pentito se le inventa. Qual è l'altra prova che collega, che comunque riscontra questa cosa? È una prova materiale, le impronte. Dove sono queste impronte? Voglio vedere queste impronte. Vanno a ricercare le impronte nel laboratorio della polizia scientifica, le impronte si sono deteriorate, per cui non è possibile rifare un'analisi di quelle impronte, cioè, casualmente, non è che tutte le impronte si deteriorano, anzi, le impronte proprio vengono prese e rimangono custodite, ben custodite nel tempo, è impossibile, però quell'impronta è deteriorata e non si può rifare un'analisi dell'impronta, per cui Carminati verrà assolto da questo delitto. Un collaboratore di giustizia ci racconterà, Maurizio Abbatino, che è un ex della banda della Magliana, che Carminati era riuscito, attraverso le sue fonti interne, ad arrivare nella stazione della Criminal Poll del Lazio dell'epoca, arrivare negli uffici dove c'erano queste impronte, e in qualche modo deteriorarle, e così distruggere una prova, la prova regina della sua colpevolezza. In qualche modo Massimo Carminati è un personaggio estremista di destra, un fascista, che lui si dichiara ancora, eccetera, che è entrato e uscito a tutti questi misteri italiani. E io sono convinto di due cose. Una, o è stato sfortunato, per cui, poverino, è uno che se c'è un fatto tutti quanti hanno accusato Carminati, e allora è giusto che la giustizia abbia detto oppure è stato così fortunato che lui, in tutte queste storie da dove è entrato, è riuscito a trovare la chiave per uscirne. E io non so se questa chiave poi l'ha trovata nel cavo o durante i suoi percorsi criminali. Lirio, qualcuno ha anche supposto, dopo la sentenza di primo grado di mafia capitale, che è come se una parte dello Stato volesse liberarsi di quest'uomo proprio per non far andare oltre, non approfondire questo argomento, non scavare sul famoso mondo di mezzo. È una ipotesi che può reggere questa. È una delle ipotesi che è stata fatta. Ci liberiamo di lui così evitano di indagare ancora su altro. Il problema è che di Massimo Carminati è difficile liberarsi. A Roma è ancora potente. Perché, vedete, la storia che io racconto nel libro, in questo libro La Lista, è la storia del furto al cavo. Quando io sono arrivato a Roma e mi sono occupato di altro per l'espresso, a un certo punto però, vivendo a Roma, è un po' come noi. Cioè, arrivi a Roma o arrivi in un posto, eccetera, alla fine ce l'hai sempre la cosa. Dici, ma cacu cumanna. Cioè, come funziona la cosa? Cioè, è impossibile che... Però sentendo, se vai sempre nei stessi bar, nello stesso ristorante, frequenti un po' le persone e queste persone si lamentano di alcune situazioni che non riescono a risolvere e con altre persone che suggeriscono chi può essere il risolutore dei loro problemi, che sono problemi illegali, e tutte quante indicano nel risolutore un nome sempre costante che si chiama Massimo Carminati, mi viene poi in me e dico ma come, Massimo Carminati non era stato arrestato, ma quando mai, diciamo, poi è libero, eccetera, e poi lui ha fatto il furto al cavo, il furto al cavo, ma lui li tiene tutti così, li tiene tutti in pugno, lui ha fatto il furto al cavo, per cui riesce a risolverti i problemi. Per cui c'era l'imprenditore che non riusciva a costruire perché c'era un vincolo paesaggistico, l'altro, lui in due giorni riusciva a fargli dare l'autorizzazione o altre robe, imprenditori e imprenditori che facevano affari illegali, non potevano rivolgersi alla polizia o ai carabinieri per denunciarne le truffe perché erano illegali, si rivolgevano a lui, era giudice, l'arbitro di una economia illegale sommersa e tutti quanti lo riconoscevano e ne riconoscevano la potenza. Ora, se io queste cose racconto a Roma, tutti quanti, se lo racconto qua, magari voi intuite anche il personaggio si può collegare anche a qualcuno che risolve questi problemi in Sicilia o nei paesi dove purtroppo ci sono ancora persone che si sostituiscono allo Stato perché vedono che quelli sono più forti dello Stato a risolverti dei problemi oppure perché i tuoi problemi sono illegali e hai bisogno di un giudice arbitro illegale per raccontare. Io con Massimo Carminati in questo veniva rappresentato e allora che cosa è accaduto? Che Massimo Carminati era libero, faceva tutto quanto liberamente e Massimo Carminati si comportava da... si comportava da leader era un personaggio veramente inquietante nel 2012 io inizio questa inchiesta giornalistica per l'Espresso e mi dicono tutti quanti danno un indirizzo cioè hai un problema Massimo Carminati vai in Corso Francia c'è un'area di servizio una stazione di servizio dell'Eni senza nulla togliere a Leni guardi ha già tolto adesso non voglio fare collegamenti con Gela però sai lì lo trovi lì e c'è una panchina di legno e lui sta seduto lì oppure nel bar va lì e ci parli e ti risolve il problema e così è stato io sono andato sono andato a vedere sono andato a controllare e vedevo questa persona cioè lui non sapeva chi fossi io andavo un po' così lo ha scoperto poi però chiedi tu sì sì poi l'ha scoperto e per cui vedevi questa c'era proprio un turno di persone che andava a parlare con lui e lui era un abitué la mattina riceveva lì in questo bar panchina alla stazione di servizio a pranzo in un altro bar in centro e poi il pomeriggio in un altro bar all'Eur era sempre questo i percorsi erano sempre questi i suoi circuiti erano sempre quelli e le persone sapevano andavano lì e chiedevano è come in Sicilia come può essere adesso un politico che è in campagna elettorale si mette lì al bar e riceve tutti quanti ti passano i pizzini le cose si sa adesso ho usato il politico forse il politico si offenderà però la cosa che mi ha incuriosito quando ho iniziato questa inchiesta non è tanto questo fatto ma era anche la reverenza che le persone avevano nei suoi confronti il rispetto che tenevano quando ci parlavano sono cose che ci siamo un po' abituati io sono malato di queste robe a un certo punto però per iniziare a fare l'attività e aprire questa giornalisticamente la nostra indagia abbiamo bisogno di spunti per cui una delle cose principali quando si avvia un'indagine giornalistica è prendere dei dati e iniziare a fotografare delle situazioni intanto devi fotografare le persone con cui si incontrano vedere dei visi vedere come si muove soprattutto con quali mezzi e i mezzi fotografarne la targa incominci da lì dalla base dai dati di queste cose che poi ti portano a sviluppare in redazione le prime informazioni per cui le prime informazioni quali sono? vedi i visi i volti delle persone c'è chi possono essere chi sono e così vai a individuare i mezzi sono questi le targhe andiamo nel nostro database tutto legale vi sto raccontando diciamo la sezione inchiesta che guido abbiamo a disposizione di questi database che è il pra cioè senza nulla toglie che noi paghiamo l'informazione lo paghiamo all'aci però chiediamo l'informazione a chi appartiene questa targa e ti dice la targa a chi appartiene perché da questa cosa non ci serve perché dall'informazione della targa del proprietario possiamo risalire poi che so ai tuoi dati se c'è tua moglie se c'è e da lì puoi fare visure catastali o altre visure imprenditori nella camera di commercio per allargare il nostro range d'azione per vedere innanzitutto chi sei che fai di chi circondi quando io ho fotografato la macchina su cui si muovera che era un Audi e la targa e poi la targa anche della macchina della moglie che era una smart tutti e due io sono rimasto stupito da lì ho detto questa è una cosa grossa perché le loro macchine non erano intestate a loro ma erano intestate a Palombini SPA Palombini a Roma è come dire qui non lo so vabbè è come dire Eni è come dire Eni Palombini SPA è Palombini che che nel campo della ristorazione c'ha i bar c'ha i caffè gestisce la bouvet alle scuderie del del Quirinale in altri posti importanti è un imprenditore veramente importante che fattura milioni di euro l'anno ora ma un imprenditore che fattura milioni di euro l'anno e sta all'euro ma perché cavolo deve dare le macchine a Carminati e lì ho detto allora questa cosa è interessante e ho iniziato su questa cosa a capire perché perché ma perché se il sindaco si muove con la macchina interessata all'Eni ma perché si deve muovere con la macchina interessata all'Eni signor sindaco non so se c'è qua non so sto facendo un esempio perché e questa cosa è stato lo spunto per cui inizi a fare e Carminati camminava con queste cose per cui vedete sono tanti elementi che ti hanno portato e mi hanno portato poi a raccontare il re di Roma a raccontare grazie anche alle informazioni che sono arrivate strada facendo ho avuto la fortuna di trovare due fonti che erano invischiate nel territorio criminale romano e l'una non sapeva dell'esistenza dell'altro per cui li incontravo separatamente mi raccontavano com'era la situazione attuale eccetera ho ricostruito questa mappa di potere di Carminati che per me era tutto un metodo mafioso ma io fino a quel momento non l'ho mai raccontato però quando esce dopo otto mesi questa inchiesta a dicembre del 2012 Carminati diventa pazzo e lì scopre che esiste l'Espresso che esiste l'Iriabate e che c'è e che ci sono i giornalisti perché lui diceva ma questi ma questo per chi lavora cioè ma perché sta facendo sta cosa cioè ma i giornalisti non le fanno queste cose e allora poi nelle intercettazioni abbiamo capito quelle che sono seguite che Carminati era abituato a conoscere altri giornalisti era abituato a fare altre robe normali e queste non le considerava cose normali questo modo di fare giornalismo lo considerava fare e guardie cioè eri sbirro eri un'altra cosa non giornalista però tutto il suo modo di fare da quando esce questa prima inchiesta sull'Espresso che titoliamo i quattro ereri Roma da quel momento il suo atteggiamento cambia si modifica a parte che mi viene a cercare e ha fatto tante cose ma questo lasciamolo perdere ma lui attua tutta una serie di metodi che riconosciamo in Sicilia e in Calabria che vengono fatti di solito dai boss di Cosa Nostra o dall'Andrangheta lui lì li fa e viene fotografato e filmato e poi tutto questo verrà raccontato nel processo però i giudici ogni testa è tribunale ed è rispettoso che si faccia però quei fatti le intimidazioni le minacce quelle irreverenze eccetera rimarranno il fatto che hai in pugno i politici della città diciamo ma sono consiglieri comunali sì ma sono consiglieri che però ti danno milioni di euro milioni di euro le stazioni appaltanti ormai sono il comune e la regione non è che ce ne sono altre sono milioni di euro e sono quelli e i consiglieri che si vendevano lui li comprava con 200-300 euro e se non ci stavi c'era la minaccia perché c'era il ciecato e tu ne avevi paura per cui tutti quanti avevano paura di di Carminati dico soltanto questo e poi ti chiudo ma c'è una scena c'è una scena che filmata e registrata con le intercettazioni in cui Carminati deve dare una lezione a un gioielliere dei parioli questo gioielliere dei parioli ha fatto tipo delle truffette ma le ha fatte a degli amici di Carminati questo non se lo può permettere attraverso il suo braccio destro violento che si chiama Brugia anche lui è stato condannato a 18 anni urrà urrà direbbero gli avvocati fa contattare il gioielliere dice vieni subito alla stazione di servizio che ti dobbiamo parlare questo qui capisce che è una sorta di trappolo o comunque gli vogliono dare una lezione e si presenta lì in scooter con la figlia è una ragazza avrà avuto otto anni e si sente Carminati nell'intercettazione dice guarda questo pezzo di merda è venuta con la figlia perché sa e lui si pensa che viene con la figlia e noi non gli facciamo niente questo qui arriva con la figlia dice sa l'ho presa l'uscita da scuola se non ti preoccupare la bambina porta al bar prendono la bambina prende uno la bambina la porta al bar poi questo bruggia prende il gioielliere e Carminati dice mettiti nel retro bottega e non ti fa vedere che non ti fare fotografare mentre gli fai quello che gli devi fare questo va dietro nel retro bottega poi torna insanguinato con la faccia così deve prendere la figlia che lo vede in queste condizioni e va via ora ditemi ma che cazzo è questa cioè se non è una intimidazione feroce violenta che soltanto nelle mafie possiamo riconoscere no per i giudici di Roma questa è associazione semplice e tutto questo è filmato è fotografato è registrato questa è una delle azioni che fa Carminati è uno dei fatti raccontati documentati che fa Carminati e per questo hanno paura di Carminati perché hanno paura di Carminati ancora oggi io qui non so se voi qui potete ancora chiedere Emanuello sei una merda io non lo so però sono sicuro di una cosa che a Roma a Roma la parola Carminati non la puoi urlare ma soprattutto non la puoi manco pronunciare in certe zone perché hanno paura è questo fatto quando tu analizzi e racconti le particelle diciamo che sono nell'aria le puoi soltanto documentare giornalisticamente perché poi è difficile trasferirle in un processo perché che prova è che cosa è quello ha paura è difficile però il compito dei giornalisti è quello di raccontare queste situazioni questi ambienti di registrare queste queste atmosfere e trasferirle alle persone per vedere che cosa di che cosa stiamo parlando noi questo diciamo il giornalista non deve fare il magistrato l'inquirente l'investigatore non facciamo sentenze ordinanze di custodia cautelare no dobbiamo soltanto raccontare documentando i fatti che possiamo provare tra l'altro facciamo adesso un po' anche una pausa musicale anche per far prendere il respiro a Lirio leggevo in uno dei tuoi editoriali anche del tuo collega all'Espresso che avete riportato questa questa frase che mi ha colpito che riguarda la definizione di mafia come l'ha definita una persona che poi citeremo è un'associazione per delinquere con fini di illecito arricchimento per i propri associati e che si pone come elemento di mediazione tra la proprietà e di lavoro e di azione si capisce parassitaria e imposta con mezzi di violenza questo lo ha scritto Sciascia nel 1957 questi giudici di Roma forse non ho manco letto Sciascia questi elementi non ci sono nell'inchiesta di mafia capitale non ci sono negli atti di mafia capitale ci sono tutti i connotati invece no per i giudici dei romani questo è un'associazione come dici tu tra di loro io non voglio andare contro i giudici di Roma la vostra sentenza si rispetta non si giudica dicono tutti la presidente fra l'altro la presidente del tribunale è un magistrato che ha fatto in passato un altro processo per la mafia di Ostia condannato per l'associazione mafiosa gli imputati che poi scusami vent'anni non sono noccioline hanno esultato come se fossero stati assolti però vent'anni c'è nove anni non mi pare una sentenza poi clemente da festeggiare hanno festeggiato hanno festeggiato c'è chi festeggia quei cannoli c'è chi festeggia i vent'anni che ti devo dire però il problema il problema è che non è che non hanno letto non hanno la mentalità che a Roma ci può essere questo metodo mafioso applicato e per questo noi diciamo abbiamo coraggiosamente devo dire da parte del direttore fatto una copertina nel numero che ho trovato ancora in edicola fino ad oggi stato ceccato perché la cosa che diciamo noi è che non puoi diciamo vedere le cose a metà sei ceccato in questo caso dava molto al ceccato devi vedere la mafia oggi come si è trasformata come si è evoluta oggi il metodo mafioso non è più quello della coppola e della lupara che vedevamo nei film 40 anni fa oggi è un'altra roba per cui abbiamo bisogno stato sei un po' cosecato perché la realtà dei fatti della quotidianità ci racconta ben altro rispetto a quello che tu sei abituato a fare nelle sentenze nelle auto di tribunale oppure non siamo riusciti a portare queste prove non siamo riusciti a fare e allora ecco lo stato è debole da questo punto di vista però l'espresso perché è nella natura dell'espresso siamo un po' provocatori ma siamo giornalisti non possiamo dipendere soltanto da sentenze per cui la nostra idea è stata quella di stato cecato perché qualcosa si deve fare per migliorare o la giurisprudenza o la cultura delle persone per cercare di individuare quando la mafia c'è che quella deve essere una mafia punibile o quando la mafia non c'è mica si può cercare la mafia allora facciamo una piccola pausa in questo caso musicale poi torneremo a parlare anche ancora con Lirio ovviamente io non voglio fare nessun monologo anzi sono qua a farvi ascoltare le sue parole quindi vorrei che anche poi voi dal pubblico alcuni dei colleghi qualcuno vuole fare qualche domanda a Lirio tranquillamente la potrò fare quindi possiamo farla diventare una cosa più partecipata in questo caso che diventa anche più divertente non so se Hermano e Giorgia sono pronti noi possiamo dare spazio e voce a loro non so se Grazie a tutti 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 Non si capisce più adesso che chi sta con la destra poi passa alla sinistra e poi viceversa dalla sinistra alla destra, c'è un po' di confusione da questo punto di vista e penso che anche un po' di confusione c'è anche fra quelli che si possono in tutta questa mucchiata infilare che sono quelli che sono legati alla mafia, in cui a un certo punto non li individui più oppure li individui però si camuffano così bene in questa grande ammucchiata che possono riuscire poi a farla franca magari anche essere eletti. Le elezioni comunali ci hanno dato questa dimostrazione in Sicilia e quando poi la magistratura è arrivata a un certo punto, vedi Trapani, c'è stato un colpo di mano purtroppo geniale che ha fatto saltare il banco. Cioè elezioni non se ne fanno, non si elegge nessuno, ma mica l'hanno detto in maniera criminale, l'hanno detto con la forza di una legge che era stata fatta ed è stata fatta da questo Parlamento siciliano e per cui in virtù proprio di tutta una cosa legale è stato mandato un commissario a gestire le cose per i futuri mesi. Poi certo sui candidati abbiamo tutto da discutere, ce n'era uno che non doveva essere, diciamo, doveva stare in soggiorno obbligato, comunque di vete di dimora, un altro su cui c'era una custodia cautelare pendente, cioè voglio dire personaggi proprio scelti, proprio benissimo per amministrare. Questo ti fa capire la Sicilia che non è cambiata, anzi si è molto evoluta e mimetizzata. Io ho paura che per le regionali, che ci vorranno tantissimi poi elettori, ci vorranno tantissimi voti, questo trasformismo e queste ammucchiate si possono ripetere. Ma l'eventuale estensionismo, che è un pericolo reale, chi può favorire in questi casi? Favorisce chi magari riesce a portare attraverso le proprie famiglie dieci voti in più, perché l'astensionismo sarà tantissimo, però quei dieci voti in più che la famiglia potrà portare o all'uno o all'altro faranno la differenza e solo per quei dieci voti in più tu quella differenza l'hai fatta e qualcuno poi te ne deve rendere atto quando sarai eletto. Lirio, ma i giovani che non conoscono il fenomeno mafioso in Sicilia o che guardano le foto di Falcone Borsellino e quindi veramente non sanno quello che noi abbiamo vissuto in persone, persone che abbiamo attraversato anche a Gela con fine anni Ottanta, le stragi del Novanta, come spiegare poi il fenomeno mafioso? Perché c'è il rischio che sembra una bella fiabba superata e invece non è affatto così, perché lo hai detto tu anche nell'intervista prima quando l'abbiamo fatto con le TV locali, lo stereotipo è quello della coppola o delle stragi, delle azioni eclatanti, del tritolo non è più così, è molto più sottile la mafia, si è veramente, si può dire, culturizzata, non lo so, però è cambiata veramente, è molto più sofisticata. È al passo coi tempi, riesce ad anticipare i tempi in maniera intelligente rispetto a come magari la possiamo fotografare noi o anche i magistrati e questo ce lo insegna la storia degli ultimi 40 anni, gli ultimi 50 anni, la mafia parte dalle campagne, parte dall'edilizia, il traffico di droga, eccetera e quando l'abbiamo, la stiamo per raccontare, la stiamo per processare, già la mafia non è più quella ma è diventata altra si è progredita fino a diventare una mafia invisibile e allora si dice se è invisibile non si vede, non fa nulla, non si può invece no, è invisibile nel senso che non riusciamo a focalizzare il metodo mafioso per come siamo abituati, almeno fino al passato, a vederla però quando c'hai, adesso vi dico le cose più banali cioè quando non ti permettono, anche nell'istruzione non ti permettono di avere un accesso all'istruzione per come i cittadini dovrebbero avere, per come i ragazzi dovrebbero avere però è tutto limitato, perché l'edificio scolastico è pericolante, allora ci vogliono i soldi, devi fare le cose allora andiamo nel frattempo in affitto su un altro locale e quell'altro locale è l'unico a disposizione in questo momento, in questo momento di emergenza perché poi con le emergenze ti buttano lì i ragazzi e tu prendi in affitto questo edificio i ragazzi studieranno male, saranno ammassati però alla pubblica amministrazione quell'edificio costerà tantissimo è stato preso perché magari l'amico te l'ha favorito in emergenza non fai un appalto e l'emergenza ti porta a dare a trattativa diretta quella somma che ti viene richiesta e i ragazzi saranno costretti a studiare male, a fare delle cose male a discapito appunto della pubblica, della società così come tante altre cose di cui non possiamo goderne io non capisco perché ci sono tante cose di cui avremmo diritto senza chiedere favore a nessuno invece non ci viene negato tutto ciò e per cui tu dici ma guarda ma com'è possibile che a Roma, a Milano questo è possibile diciamo senza che tu chieda il favore qui invece una cosa che ti è dovuta la devi proprio supplicare le lunghe liste d'attese della sanità per gli ospedali pubblici allora sei costretto ad andare in quelle convenzionate diciamo nelle cliniche e strutture convenzionate dove poi pagherà la pubblica amministrazione tanti soldi e perché non lo puoi fare in un ospedale pubblico dove tutti quanti possono accedere e magari liberare se ne fai tante macchine liberare di più quella attesa sono tante situazioni che dicono che non è mafia però tutto questo ti viene ristretto e poi quando tu hai un bisogno perché in molte realtà siciliane questo lo è e c'è uno che si sostituisce allo Stato alla pubblica amministrazione e ti risolve quel problema lì bisogna stare attenti perché quello non è lo Stato ma è uno a cui tu ti sei rivolto e questo è l'esempio più banale ci viene data dalla latitanza continua di Matteo Messina Denaro fra Agrigento e Trapani questo signore così amato dalla gente ma mica perché è bello eccetera magari tantissimi non l'hanno mai visto ma perché si è sostituito nel corso degli anni e lo sostituisce ancora si sostituisce allo Stato perché continua a dare lavoro attraverso le sue società i suoi prestanome continua a risolvere problemi continua in qualche modo a occuparsi delle persone delle persone che gli chiedono di risolvere dei problemi prima fra tutti quello occupazionale e quando tu gli risolvi un problema del genere le persone ti ameranno per sempre perché in un territorio come il nostro questo è di grande valore come è successo in Calabria poi magari lo baciano con l'attetante arrestato magari hanno il bacio della rivederci Lirio prima di passare le domande se i nostri ospiti vogliono i nostri invitati devo farti una personale la rinuncia è più dolorosa perché tu sei privato della libertà personale è inutile negarlo ogni tuo spostamento deve essere credo misurato, controllato non è facile secondo me la tua vita c'è una rinuncia che ogni tanto ti ha fatto non dico pentire io la chiamo quasi missione ma la tua per inseguire la tua passione di giornalista che vuole indagare che vuole scoprire che vuole raccontare ostiatamente alla gente quello che magari la gente fa finta di non vedere o che non sa perché non gli vogliono far sapere guarda io continuo a fare il mio lavoro cerco di farlo nel migliore dei modi non amo parlare di queste cose perché penso che un giornalista deve raccontare i fatti le situazioni che tu puoi documentare in giro devi in qualche modo trasmettere anche positività devi raccontare un fatto se io ti racconto di Matteo Messina Denaro che è amato dalla gente perché ma io ti devo anche raccontare perché non lo devi amare o perché una cosa propositiva perché comunque perché lo Stato deve essere più presente in quei territori allora ma anche la cultura deve essere più presente in quei territori allora devi capire che quello è un male per la società cioè io ti devo raccontare queste storie io devo diciamo raccontarti non ti posso raccontare di cose che mia che non interessano a nessuno non portano a nulla così come non esiste diciamo ah quello lo invito è il giornalista antimafia ma non esiste cioè non c'è manco il giornalista mafia cioè magari ci sarà sarà arrestato se è un giornalista pro mafia però il giornalista è il giornalista cioè non c'è un giornalista ah il giornalista ha scortato è che è che una medaglia cioè non è assolutamente ci sono situazioni che però questa domanda mi permette di dire che è di affermare che oggi siamo nelle condizioni e lo Stato è nelle condizioni di arrivare prima siamo in una regione dove sette giornalisti sono stati ammazzati dalla mafia ma non perché si sono scontrati hanno avuto un incidente con la pallottola vagante perché sono stati ammazzati perché raccontavano la mafia in un certo modo non perché dicevano Rine e Bagarella siete mafiosi siete dei mafiosi e poi diciamo mafioso a me lo dice ti ammazzo no non è successo questo raccontavano gli affari di queste persone sono stati ammazzati oggi lo Stato è questo ti ringrazio per la domanda ti dico oggi lo Stato arriva prima oggi lo Stato e gli investigatori arrivano prima dei mafiosi un attimo ti mettiamo nelle condizioni che tu puoi continuare a fare il tuo lavoro sappiamo che può essere in pericolo ma ti mettiamo in tutte le condizioni che tu puoi continuare a fare gli scoop le notizie a fare l'imprenditore a fare il commerciante tu sei nelle condizioni lo Stato c'è e questo è un fatto enormemente rivoluzionario rispetto a quegli anni in cui veniva ammazzato Pippo Fava Alfano e veniva ammazzato Mario Francese e veniva sequestrato e assassinato Mauro De Mauro e veniva dilaneato Peppino in passato che giornalista non era ma che faceva operatore dell'informazione migliore dei giornalisti ora ecco oggi lo Stato c'è in virtù di questa cosa noi dobbiamo cercare diciamo onorare al meglio il fatto che ti lasciano lavorare ancora meglio e che ognuno deve fare la propria parte loro fanno la propria e io faccio la mia la cosa che poco fa mi è piaciuta quando abbiamo fatto le interviste per le tv ti ho detto una cosa bella secondo me importante da sottolineare è che rispetto a prima noi dobbiamo raccontare l'attualità della mafia non quella che è stata raccontare i fatti avvenuti è semplice è quasi facile invece dobbiamo essere attuali nel momento in cui stiamo vivendo una certa situazione sì è uno sforzo che dobbiamo cercare di fare diciamo quando nel 2012 ho raccontato Carminati era libero era libero era incontrastato era libero incontrastato abbiamo avuto la cosa anche di mettere la sua foto in copertina insieme ad altri tre che erano anche loro liberi ma raccontare attenzione oggi a Roma succede questo questi sono i fatti io vi sto raccontando queste cose documentate e il problema è che su quelle cose la gente l'ha letto e ha detto vero è così ma la politica l'ha letto e si è girata da un'altra parte cioè non ha detto ah attenzione è così allora un attimo attrezziamoci vediamo come le cose ah no cioè non ha fatto finta di nulla c'è stato il silenzio della politica è questa cosa che mi ha preoccupato perché poi ho visto perché la silenzio della politica perché la politica era interessata in prima persona a quelle vicende e che non ho trovato la fonte giusta all'epoca per individuare il politico perché altrimenti avrei messo pure anche la quinta foto di questa cosa mi dispiace allora io adesso se qualcuno dei colleghi ma anche degli altri ospiti volete porgere domande al Lirio è qua per questo ovviamente devo fare recuperare anche un piccolo gap devo fare anche ammenda nel senso che nella serata era previsto perché lo abbiamo detto oltre a presenza del libro Lirio i piccoli brani musicali anche delle opere delle installazioni di Roberto Collodoro che è un artista gelese che vince tanti premi l'ultimo attrappeto mi parla la settimana scorsa ma ne ha vinti anche in Campania è un artista gelese molto molto bravo aveva previsto anche dei dipinti dei disegni guarda caso che non erenti al tema abbiamo dovuto toglierli perché quando li abbiamo messi intorno ai 18 si è alzato un vento terribile stanno per essere strappati però con Roberto mi pare che qui io non lo vedo in penombra voleva donare almeno una sua opera dove non ti vedo Roberto io ho il faretto di fronte quindi avvicinati so che ci teneva quanto meno a donare una sua opera a Lirio almeno la porta la porta via speriamo dove sei Roberto non ti vedo io scappato con l'opera scappato con l'opera ma ne ha portate tante tra l'altro c'è un disegno simbolici se riusciamo a farli vedere Roberto anche se non li abbiamo messi perché quelli che tu hai preparato da tempo non li abbiamo preparato per l'occasione perché tu l'hai fatti in tempo non ti aspetto lui e Roberto lo facciamo un applauso perché è un ragazzo gelese un artista gelese bravissimo volevamo mettere signori questo ah questo è peppino impastato facciamo vedere a favore di pubblico anche di camera e lo stesso Roberto aveva fatto anche con Falcone e Borsellino c'erano altri disegni che volevamo mettere proprio qui però il vento non è stato clemente adesso si è calmato lo possiamo mettere adesso ormai no però insomma ci teneva Roberto a fartelo a fartelo bere perché fatto quanti anni fa l'hai fatto Roberto? quanti anni fa eh qualche anno fa qualche anno fa qualche anno fa qualche anno fa ci sono anche altri figli di Falcone e Borsellino mi pare se non ricordo male che lo dovevamo mettere però grazie Robby sì poi glielo facciamo portare allora c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa di indiscreto di il mio amico Fabio Cipolla con cui ci scontriamo su Facebook da anni lui la pensa in un modo in un modo opposto ma d'altra parte noi i 20 non si può andare d'accordo di qui basta di Fabio volevo chiedere a Lirio Abate che peraltro conosco molto bene la sua storia lo seguo spesso alla radio gli interventi a zapping e altri programmi programmi simili e io insomma in maniera molto provocatoria vorrei chiedere cosa pensa invece Lirio Abate dei cosiddetti professionisti dell'antimafia di tutti quelli che hanno costruito carriere sfruttando questa situazione così grave io lo dicevo lo dicevo anche prima qualcuno me l'aveva chiesto io sono convinto di una cosa che la l'antimafia o comunque una cosa che va contro la mafia deve essere contro la mafia si deve vedere praticamente io vedo Renzo qui davanti conosciamo da tempo nessuno di voi potrà mai dire una roba che Renzo è un professionista dell'antimafia perché in prima persona ogni giorno fa una cosa concreta contro diciamo un'organizzazione un potere che è prevaricatore io penso che ognuno di noi debba fare diciamo delle cose concrete e non è che puoi andare in giro con il cartello sono dell'antimafia e vai in giro e poi come disse una volta adesso voglio sdramatizzare c'era dopo l'arresto di Tottorrina Bernardo Provenzano prende le reddine di Cosa Nostra Graviano Brusca Bagarella dice allo Stato proprio lo dobbiamo disintegrare dobbiamo fare ancora altri attentati allora Provenzano diceva no ragazzi non è possibile avete visto quello che è successo non si possono fare gli attentati dice comunque vediamo di evitare Brusca e Bagarella insistevano dice no 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 dobbiamo fare gli attentati dobbiamo fare le cose dice va bene Bagarella che ogni tanto viene fuori una cosa dice facciamo una cosa gli attentati li facciamo però li facciamo fuori dalla Sicilia e tu Binnu ti prendi un cartello te lo appendi a collo e ci scrivi io sono contro gli attentati e così vai in giro e tutti quanti di Cosa Nostra sapranno che tu eri contro gli attentati però non è che gli ho messo una mano davanti allora qui non è che possiamo metterci il cartello sono dell'antimafia e tu lo vedi ah buongiorno signor sono dell'antimafia qui bisogna andare con le cose concrete ora quando noi vediamo una persona che si dice dell'antimafia però poi sul territorio lo sappiamo che antimafia non è allora queste persone non dovremmo dare seguito o comunque non dovremmo dare sostegno perché meglio di noi persone che stanno sul territorio meglio di noi che siamo giudici di queste cose nessuno ci può essere nemmeno il giudice del tribunale perché ognuno di noi lo sa se il consigliere se il candidato se l'imprenditore è uno che è un finto imprenditore o una persona amica di noi lo sappiamo non abbiamo le prove per farli condannare o per farli processare però sappiamo chi sono e allora se sappiamo chi sono non dovremmo dare seguito né far seguire queste persone per cui la c***a che è nostra se sono esistite questi professionisti dell'antimafia pur sapendo che non lo erano e allora io dico riconquistiamo questo valore di ognuno del noi noi sappiamo chi siete e riconquistiamo questo valore che ognuno di noi può avere nel voto nel ringraziare nell'evitare di stringere mani e fare delle scelte io penso che questo è il valore di ognuno di noi per evitare che si possano creare altri professionisti dell'antimafia o altri personaggi che poco hanno a che fare con l'applicazione delle regole io penso questo dopodiché poi chiudo con una battuta meglio di voi che è stata a Gela non potete fare per conoscere chi è e non è professionista dell'antimafia grazie Lirio Franco il collega Franco in furna chi vuole? tu? come va letto non sono un gran che lo so potete mettere la parrucca in questi giorni avrete notato tutti uno spot che viene lanciato dalla RAI in televisione penso anche gli altri canali io seguo soprattutto la RAI e la via che si presenta e dice che la lotta alla mafia la si conduce tutti i giorni lo Stato conduce la lotta alla mafia io spero che un giorno non ci siano solo i poliziotti i carabinieri la guardia di finanza quindi questo corpo che unitariamente combatte la mafia fa le indagini antimafia ad apparire nello spot ma che ci siano che so gli operai qualche operai un avvocato una casalinga un ingegnere un imprenditore un uomo con la tuta per dire che è l'Italia tutta che fa la lotta alla mafia perché questa premessa perché il messaggio che Falcone e Borsellino hanno lanciato quello di creare la cultura antimafia quella di dire che è una parte integrante della società la voglia di abbattere di combattere la mafia è il messaggio che viene in contrasto con chi fino a pochi anni fa diceva che la mafia in Sicilia non esiste la democrazia cristiana per tanti anni ha fatto le sue fortune insieme con i mafiosi è storia questa anche la chiesa la chiesa cardinale Ruffini diceva che la mafia non esiste era un'invenzione dei comunisti il giornale Lora era espressione della volontà dei comunisti dicevano nella battaglia alla mafia e tu dicevi poco fa dei giornalisti che hanno pagato direttamente anche tu stai pagando perché il tuo esilio forzato dalla Sicilia non è altro che il frutto del tuo impegno professionale contro la mafia dove voglio arrivare io con questo discorso dopo la sentenza su Roma sul mafia capitale c'è stato un politico Gasparri che si è comportato come certi politici dicevano che la mafia non esiste ha tirato in ballo Pignatone e ha detto e adesso chi paga i danni dell'immagine di Roma nel mondo perché era un'invenzione quella della mafia questo mi preoccupa tantissimo perché mi sembra di ritornare indietro ritornare ai tempi del cardinale Ruffini e non di Papa Voitiva che ad aggrigendo gridava penditevi ravvedetevi convertitevi capisci a differenza che c'era tra allora ed oggi oggi mi sembra di rivivere di fronte a questa sentenza di rivivere quei momenti e allora io mi preoccupo vorrei sapere il tuo pensiero io lo condivido e ti ringrazio quello che hai detto e guarda la situazione che che io sto vivendo adesso a Roma dopo questa sentenza e le inchieste è che se non ci fosse stato il mio gruppo editoriale il mio giornale vi potrei dire sono solo cioè sono la categoria gli altri giornali hanno letteralmente abbandonato la penna abbandonato l'idea di insistere in un'idea giornalistica facendo in modo che gli avvocati difensori di Carminati che sono padre e figlia come hanno fatto durante il processo continuano adesso a puntare il dito che la responsabilità è solo di Abbate che Abbate è fissato Abbate ha queste cose per cui è un problema mio cioè adesso è soltanto mio e questa cosa poi viene favorita da questi politici che nemmeno quelli di sinistra poi hanno fatto delle robe tranne poi qualcuno è riuscito negli ultimi giorni a dare diciamo una dichiarazione un po' più forte però ci sono questi politici che a Roma vanno forte la destra a Roma è molto forte e quando già con una dichiarazione del genere si sono schierati da quella parte lì la gente ha vinto perché se la gente fosse stata consapevole se quella gente avesse conosciuto quelle vittime delle intimidazioni di cui Carmiati è accusato ed è stato riconosciuto che lui ha fatto quelle intimidazioni quelle estorsioni soltanto che sono cose semplici non sono mafia cioè perché il tribunale gli ha riconosciuto questi fatti non è stato assolto soltanto che lo hanno condannato come associazione semplice ecco se quelle persone che conoscerono le vittime se anche amici degli amici avessero alla sentenza fossero presentati in dieci in venti davanti al palazzo di giustizia di Roma a dire signori magistrati noi siamo con voi e invece non è accaduto perché per tutta la durata del processo i romani non hanno mai fatto il tifo per i magistrati i romani non hanno non si sono mai schierati dalla parte dei magistrati i romani sono rimasti inermi forse perché avevano paura ma ancora oggi lo sono per cui gli unici che si sono schierati sono stati i politici però dalla parte degli imputati e questa cosa è ritornare indietro di 40 anni e c'è molto lavoro da fare molto lavoro da fare grazie Lirio adesso anche lì spezziamo un po' il ritmo e poi torniamo al nostro credo bel dibattito un'altra giovanissima Sofia Trovato con Ermano il microfono andiamo fischiare forse ma lontano io è meglio torniamo alla musica italiana Elisa eppure sentire a un passo l'ora di decidere l'ora di decidere l'ora di decidere l'ora di decidere di tutto quello che non so di tutto quello che non so Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli il popanto c'è Eppure sentire nei sogni il fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei fiori tra l'asfalto, nei fiori tra l'asfalto, nei fiori tra l'asfalto. Eppure sentire nei sogni il fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei giorni di silenzio c'è Che eeo senza di te C'è un senso di te Brava Sofia, brava Ermano, bravissimi anche voi Ci avviamo alla conclusione Ho sorriso Lirio quando ho visto l'ultimo tuo confronto scontro con l'avvocato di Carminati da Mentana Ti hanno addirittura accusato di aver seguito l'udienza Quindi come fai tu a parlare di una cosa che non conosci? Non hai seguito neanche il processo Come se lei non sapesse il motivo per cui tu non potevi seguire questo processo Però questa tendenza a screditare chi scrive e racconta cose di questo genere è sempre esistita Esiste anche una staticità Quando tu racconti una cosa che non piace al tuo interlocutore Chi ti assicura non è soltanto il mafioso E anzi posso dire la voce alta e soprattutto il politico Qui dà fastidio che tu racconti certe cose Cioè racconti la verità, cose normali Gli piace sempre sentire raccontare le cose che interessano soltanto a lui Non alla collettività Però questa tendenza a isolare chi scrive certe cose è continua No, è continua Lo vediamo costantemente Nelle piccole realtà è ancora più evidente Molto più evidente Cerchiamo per quando riusciamo a captare questi isolamenti Di evitare che possa esserci un isolamento Illuminare quella vicenda, quel collega, quelle situazioni Per non farlo restare da solo Io all'inizio quando ho iniziato il processo mafia capitale Volevo Vi racconto questa ma non l'avevo mai raccontata Non l'ho raccontata mai prima Volevo costituirmi parte civile Per alcune cose che mi riguardavano Che erano nel processo Poi dopo un confronto con i miei avvocati Con la procura Abbiamo deciso che Non l'avrei fatto Perché Perché volevo continuare a seguire il processo Se fai la parte civile Se sei parte del processo Non lo puoi raccontare Non puoi intervenire durante Sei troppo parte in caso A scriverne Non è deontologico Però in quelle occasioni Quando iniziò il processo La procura e gli investigatori Mi dissero una cosa molto chiara Ma anche davanti agli avvocati Evita l'aula del tribunale Non evitiamo che La tua presenza possa provocare Quello che già loro avevano registrato Durante le inchieste Ma anche durante la detenzione Di alcuni detenuti Che la mia presenza poteva provocare disagio Nel senso che Potevano andare in escandescenza Per cui mi è stato consigliato Di non andare in aula Il processo l'ho seguito Invece questo Bisogna renderne atto Del grande lavoro Che fa Radio Radicale Radio Radicale Ha ottenuto Di registrare Tutte le udienze Il tribunale Gli ha vietato Di mandarle in diretta Le udienze Doveva soltanto Mandarle indifferita E la sera Stavo lì a ascoltare Tutte queste udienze Dove Gli avvocati Gli avvocati La facevano da padrone E questa cosa Sono fatti documentati Che potete andare Ad ascoltare Basta cliccare lì Sulle udienze Sulle registrazioni Di quello che è accaduto In alcuni casi Le ho raccontate anche Sull'Espresso Dove c'era Il difensore Di Carminati Che faceva Il maestrino Verso gli altri avvocati Che se non lo seguivano Erano persone Erano dei quacquara qua Addirittura Rivolgendosi ai propri Colleghi Dicendo che Voi non fate queste cose Siete dei quacquara qua Noi dobbiamo protestare Contro il tribunale Contro queste cose In udienza Tutto questo è trascritto Ma soprattutto È l'atteggiamento Che l'avvocato Di Carminati Sentendosi Il principe del foro Aveva nei confronti Di alcuni avvocati Di parte civile Ad esempio L'avvocato di parte civile Di Libere Di altre associazioni Dei consumatori Che ha fatto La parte civile Le contestazioni Le opposizioni Lui non mancava Ad ogni udienza Di additarlo Come addirittura Il coglione Messo a verbale Senza che la presidente Se ne accorgesse O comunque L'avvocato Di continuare Per tutte le udienze Ad additarmi Con dei nomignoli Con delle cose Quando io Non centravo per niente In quella discussione In quel momento Ma lui doveva Per forza Davanti alle gabbie Davanti agli imputati Eccetera Denigrare il giornalista Dire delle cose Contro il giornalista E ricordare che se loro erano lì E se quello era il 41 bis O se loro stavano lì dentro Era perché il giornalista Si era inventato delle cose E lì L'avvocato A insistere E lui di nuovo Ecco Sei un cretino Atteggiamenti Che in altre aule Di giustizia Io non ho mai visto fare Ma che a Roma Ho visto fare E lì c'è stato L'isolamento Anche dell'avvocato Di parte civile Ora Il giornalista Nelle piccole realtà Viene isolato Viene additato Dal politico Sei tu Allora sei contro di me Eccetera In altre realtà Ci sono le criminalità Altrettanto Anche nelle piccole Ma questo cosa ci fa Ancora una volta Comprendere E affermare Che l'informazione Il giornalista È una persona Libera Che quando lo fa Liberamente Può mettere In crisi E in difficoltà Il politico colluso Come anche La mafia E se è fatto In un certo modo Hai l'appoggio Dei tuoi direttori Se hai l'appoggio Di un giornale Che ti dà lo spazio E tu lo racconti E quel racconto È documentato Tu puoi anche Mettere alla berlina Un politico colluso Perché se documenti La sua collusione È uno che ha finito Di vivere politicamente E loro di questo Hanno paura E per questo Quando io Ho deciso Di scrivere Questo libro Ed era novembre Del 2016 E perché Quando l'Espresso Ha deciso A ottobre Del 2016 Di fare L'ennesima Inchiesta Su Carminati Io e Paolo Biondani Abbiamo fatto L'inchiesta Sul furto Dal cavo E abbiamo Per la prima volta Raccontato A distanza Di quasi Dieci anni Dal furto Dal cavo Che è avvenuto Nel 99 Il cavo Il cavo Dentro la banca Della banca E dentro Il palazzo di giustizia Il palazzo di giustizia È dentro La città giudiziaria È un posto impenetrabile Carminati è riuscito ad entrare Senza sparare un colpo Senza forzare una serratura Senza Senza far esplodere Diciamo Il portellone blindato È entrato Ha preso le cassette Ha aperto le cassette Che doveva aprire Pochissime Rispetto alle novecento Che c'erano E è andato via Con quello che si è portato Lì dentro Che come scrivo nel libro Con nome e cognome E' stato mandato lì Per ricattare E' stato mandato lì Da avvocati Per ricattare Dei magistrati Che avevano delle inchieste importanti Nel 99 Ora se questa storia Ecco Quando io A ottobre Sull'Espresso Racconto Per la prima volta Chi erano le vittime Del furto Del cavo Perché non si capisce Per quale motivo A Roma Dopo che nei primi giorni Era stato titolato In prima pagina Su ITG Il furto del secolo Ecco che Hanno portato via Cose importanti E poi Nei giorni Nei mesi successivi Viene arrestato anche Carminati C'è pure Carminati Dentro del furto Ma nessun giornalista Si incuriosisce Del fatto di dire Ma chi erano Queste vittime Del furto Le vogliamo dare Questi nomi Vogliamo andare a vedere Chi è che ha subito Questo furto Ne parliamo di due o tre Vitalone Che era amico Di Andreotti Perché era collegato In quel momento Con Pecorelli Eccetera Ma nessun altro L'ha mai raccontata Quando noi a ottobre Raccontiamo le vittime Fra cui anche Domenico Sica Alto commissario Per la lotta Alla mafia O altri magistrati E da un fact checking Cose da fonti aperte Da un'inchiesta giornalistica Che poi nel libro Racconto Con nome e cognomi Le vittime Dicono anche Non dicono Tutta la verità Sulle cose Che Gli è portata Gli è stato portato Via E non dicono Manco tutta la verità Sulle proprie identità E questo ti fa capire Che c'erano Dentro qualche altra cosa Carminati Diventa pazzo E quando noi Ti toliamo In copertina Ottobre 2016 Ricatto Alla Repubblica Col faccione Di Carminati Ci è voluto Il coraggio Dell'espresso Adesso non voglio Vantare l'espresso Ma ci vogliono Le palle così Perché devi fare Ricatto Alla Repubblica E ci metti La faccia Di Carminati E sapevamo Che qualche cosa Poteva accadere E così è accaduto Perché dopo 40 anni Di silenzi Di Massimo Carminati Perché non ha mai Risposto a un giudice Si è sempre avvalso Della facoltà Di non rispondere Non li ha mai calcolati E è rimasto in silenzio E quel silenzio Ha sempre fatto temere Chissà quali segreti Eccetera Carminati Vede questa copertina Vede l'inchiesta E durante l'udienza E durante l'udienza Chiede di parlare Dal sito Di Parma Dove era Il poliziotto Dice presidente Carminati Deve fare una dichiarazione E l'aula E l'aula Si gela L'aula Tutti quanti A bocca aperta Oddio Carminati vuole parlare Impazzito Che succede E Carminati parla Attacca l'espresso Attacca gli autori Dell'inchiesta Fa una scenata Molto forte E' irritato E' irritato Per questo furto E' irritato Per le cose Che abbiamo Che abbiamo detto Settimana successiva Noi rincariamo La dose E lui ritorna Di nuovo Chiede di parlare La seconda volta E questa volta E qui Capiamo Il messaggio E tu capisci Che l'informazione Quanto l'informazione Fatta in un certo modo Pulita Documentata Può aiutare La giustizia Comunque può aiutare La società Perché lui Questa dichiarazione Dice una cosa Particolare Che lui dice Signor Presidente Parla Dei soldi Che lui avrebbe avuto Perché aveva Un tenore di vita Altissimo Lui Aveva tenore di vita Da milioni di euro Però ne dichiarava Soltanto poche centinaia Al fisco Dice A me li ho presi Dal cavò Perché è vero C'erano tanti documenti Ma fra un documento E l'altro Ho preso pure Qualche soldo Fermi tutti Cioè tu Intanto mi stai dicendo E stai confermando Dopo che hai fatto silenzio Non hai mai ammesso nulla È vero che sei stato condannato Per il furto al cavò Tu intanto mi stai dicendo Stai dicendo a un tribunale A un pubblico A una pubblica udienza E questa cosa arriva fuori Dall'udienza Dal tribunale Che tu intanto eri presente E sei andato E sei andato nel cavò Ma soprattutto Mi stai dicendo Che c'erano i documenti Perché lui dice È vero C'erano tanti documenti E fra un documento E l'altro Ho preso pure Qualche soldo Allora hai preso pure Dei documenti E allora Perché lo dice Perché lo stai dicendo A questa cosa Perché è un segnale Che stai mandando fuori Perché qualcuno Che forse Te l'ha ordinato Di fare questo furto E tu hai portato Quello dovevi portare Gli stai dicendo Oh io sto qua Ti sei ricordato Dei documenti Eccetera Io sono qua Vieni mi a salvare L'inchiesta giornalistica Ha portato A far sciogliere la lingua A Carminati E a quel punto È stato necessario Raccontarla ancora meglio Quest'inchiesta Per questo nasce il libro Con tutti i nomi Con gli nomi Le situazioni Che cosa c'è Gli interessi Questi verbali I ricatti Dove si dice Che ci sono stati questi ricatti Alla fine Carminati Farà soltanto Avranno soltanto Una condanna A quattro anni Che poi verrà indurtata Eccetera E fa soltanto Un anno e mezzo Di carcere Per un furto Che invece Gli ha cambiato Poi la vita Perché sono convinto Che questo furto E questa storia Che è contenuta In questo libro Ma è nella storia Giudiziaria del paese Ha cambiato Anzi Ha modificato Il percorso Politico E giudiziario Del nostro paese Grazie 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 Alire Abbate Siamo veramente felici Che abbia accettato Il nostro invito Perché insomma La Rizzoli Non aveva messo Questo incontro In Sicilia Gela Nel suo circuito Lirio da quattro mesi Presenta questo libro Io mi sono infilato Così Ci ho provato Ci ho provato Ci proviamo Grazie a lui Ci siamo riusciti Non è stato semplice Di questo Dobbiamo ringraziare Soprattutto lui Quindi grazie La strada È finita Non so come ringraziarti Lirio Ti continuiamo a leggere Comunque Ti continuiamo a leggere Il libro Dov'è? È là Dov'è? Non lo vedo Il libro Piuttosto È là Il libro Alla in fondo Quindi acquistatelo Tranquillamente Perché è veramente interessante Grazie Ririo Grazie a voi Grazie a Ermano E ai ragazzi A Roberto Colodoro Al Biculbic E anche gli sponsor Ci hanno aiutato Anche a sopportare Questo evento L'Unitelma Sapienza Amaru L'Hotel Sole E ZDA Grazie a tutti Buona serata Grazie a tutti